buon sabato a tutti e anche questa settimana il comune a casa tua oggi è sabato 10 febbraio ed il giorno del ricordo e la giornata in cui ricordiamo la tragedia delle foibe e come comune di trino in collaborazione con lampi nella giornata di domani domenica 11 febbraio abbiamo organizzato un momento proprio per celebrare questa ricorrenza si terrà alle ore 10 presso la biblioteca e interverrà il professor massimiliano franco che è insegnante del liceo classico sella di biella e si discuterà sulle persecuzioni le foibe e l'esilio gli appuntamenti però per il giorno del ricordo non finiscono qui riprendiamo dopo la pausa del carnevale la pausa scolastica con la consueta mostra che tutti gli anni allestiamo quest'anno lo faremo mercoledì mattina presso l'auditorium delle scuole medie l'auditorium della famiglia tricerri intitolato la famiglia tricerri appena rinnovato e che per l'occasione appunto sarà rinaugurato mercoledì alle ore 10 e che vedrà appunto l'allestimento della mostra la partecipazione in collaborazione con l'istituto comprensivo di trino appunto di tutti i ragazzi delle classi terze medie mostra che sarà allestita appunto nello spazio dell'auditorium e che sarà disponibile a disposizione a fruizione pubblica tutti i sabati mattina fino al 2 di marzo grazie alla collaborazione con il gruppo la sezione alpini di trino i carabinieri in congetto che ovviamente ringrazio per la loro disponibilità e che permetterà appunto alla cittadinanza di poterne fruire la mostra è gestita e curata dal centro studi piemonte storia dal professor cavallero e dal dottor ugazio che da anni oramai collaborano con il comune di trino e che durante questo periodo si saranno a disposizione appunto degli istituti scolastici di trino e non non solo per poter visitare la mostra ma anche per momenti formativi e informativi per fare questo è necessario contattare direttamente l'associazione i riferimenti sono stati inviati a tutte le scuole del circondario e speriamo come di consueto è avvenuto negli altri anni tornando anche in un formato completamente in presenza in un nuovo locale rinnovato che la partecipazione sia molto ampia in cui appunto ci sarà la possibilità per i ragazzi e gli adolescenti di poter gli studenti quindi per poter conoscere bene questa parte importante della storia anche del nostro del nostro paese cambiando argomento l'abbiamo in parte toccato questa la prossima quella della prossima settimana è la settimana che porta agli eventi clou del nostro carnevale la scorso weekend è stata il giorno della grande fagiolata di robella tantissima la partecipazione un grandissimo successo gli amici del circolo robellesi di trino si sono superati anche quest'anno e dalla prossima settimana invece ripartono gli eventi del carnevale con gli appuntamenti quelli più tradizionali venerdì sera il 16 febbraio alle ore 21 ci sarà l'ex mercato coperto il ballo dei tirison il sabato 17 invece sempre al mercato coperto al pomeriggio alle ore 15 e 30 il ballo dei bambini e domenica 18 febbraio oltre dopo ovviamente tante le tantissime visite benefiche che i nostri personaggi storici faranno e stanno facendo ritorna alle ore 11 e 30 il la polenta del rione fusa un momento della tradizione di trino e che torna ringrazio ovviamente tutti gli organizzatori che si sono adoperati per ritornare a fare questa passaggio importante del della tradizione del carnevale e poi dal pomeriggio dalle 14 e 30 la prima sfilata allegorica questo ovviamente è il programma della prossima settimana come sapete tutti poi ci sarà una seconda sfilata la settimana successiva con il gran galà delle maschere invece che si terrà venerdì 23 febbraio quindi il nostro carnevale entra nel vivo insieme a quello di tutti i carnevali dei borghi delle vie d'acqua dell'associazione comuni che sta cercando di creare un'identità di territorio e valorizzare le tradizioni della della nostra della nostra zona e lo fa anche attraverso appunto la promozione dei carnevali borghi in maschera quindi vi invito ovviamente di partecipare certamente ai gli eventi del nostro comune ma anche e soprattutto a quelli di tutti gli altri comuni che sono appunto racchiusi in questo grande contenitore e che per la stagione appunto legata ai carnevali ha creato i borghi in maschera un bellissimo momento siamo stati a santià siamo stati a crescentino a saluggia in tantissimi comuni abbiamo girato anche tutte le fagiolate abbiamo immortalato i momenti più importanti e questo era il primo anno a partire dall'anno prossimo ci sarà un'ulteriore promozione per creare appunto ancora più attrattività anche di questi momenti della nostra tradizione con questa notizia concludo questa edizione del comune a casa tua e vi auguro un buon weekend sempre ovviamente ricordandovi gli appuntamenti soprattutto quelli del giorno del ricordo e vi auguro a tutti un buon inizio della prossima settimana